Ciao a tutti cari ascoltatori Meteo e ben ritrovati in questo nuovissimo video Oggi andremo a parlare dell'evoluzione meteo per le prossime ore Perché un'ottobrata sta per arrivare, ma durerà veramente poco Perché non avrà neanche tempo di iniziare, che avrà già le ore Contate a caso di una maxiondata di maltempo proveniente dell'Atlantico Con la possibile formazione di un profondo vortice temporalesco e molto molto piovoso Tutto questo lo andremo ad analizzare nel video di oggi Però come sempre, se non sei ancora iscritto, per avere sempre queste informazioni in tempo reale gratuite Ti invito ad iscriverti al canale cliccando il tasto iscriviti qua in basso a destra E poi attivare la campanella per ricevere sempre notifiche in tempo reale e lasciare un mi piace Così per sostenere il canale e cercare di crescere sempre di più Grazie per chi lo sta facendo Detto questo, incominciamo subito con il video e andiamo a vedere l'evoluzione proprio già nelle prossime ore Vediamo proprio in questo momento che l'Italia è sotto già parte di questa anticiclone Come possiamo vedere un approfondimento di un minuto di pressionario si sta andando a creare sempre di più Vicino alle coste della penisola iberica, soprattutto tra Portogallo e Spagna E sul resto d'Italia invece l'altra pressione sta già dominando il paese Levato, attenzione, alcune regioni del centro nord e soprattutto Liguria e Toscana Dove nella giornata di oggi il passaggio nuvoloso è molto molto intenso E anche molto molto chiuso Infatti il sole qua nella giornata di oggi e anche per parte della giornata di domani non si vedrà Invece leggere velature sul resto del nord Italia L'evoluzione è che nella giornata di domani il tempo andrà leggermente a migliorare soprattutto sulle regioni centro settentrionali Con temperature che tenderanno a rimanere stazionarie e a partire dalla giornata del 15 soprattutto sul centro nord le temperature tenderanno ad aumentare Con valori massimi che sono compresi tra i 22 e i 24, 25 gradi su tutto il centro nord Sul centro sud invece la cosa è diversa perché già nella giornata di oggi le temperature stanno aumentando E sono già abbastanza miti considerando che su parte di Sardegna valori massimi hanno già superato i 25, 26 gradi e anche sul resto del centro sud Andando a vedere l'evoluzione il caldo più forte si farà sentire nella giornata tra il 15 e il 16 come possiamo vedere Poi a partire già dal 16-17 sul centro nord inizieranno già esserci le prime infiltrazioni Prima sul nord ovest e poi sul resto d'Italia Andiamo a vedere le temperature perché le temperature saranno molto alte su gran parte del nostro paese Infatti quest'ottobrata sarà l'ultimo segnale di questa estate che ormai possiamo dire che ci ha già abbandonato da tempo Un segnale abbastanza forte per il periodo con temperature notevolmente calde Soprattutto su parte di Francia e Germania dove qua i valori saranno sopra la media addirittura di 10 gradi E saranno sopra la media sul centro e sud Italia di circa 4-5 gradi Attenzione con valori massimi che potrebbero raggiungere picchi di 30 gradi su parte di Sardegna e poi anche Sicilia Sul resto del centro sud del lato tirrenico le temperature saranno leggermente più alte con valori massimi di circa 26 gradi E invece sul lato adriatico temperature di circa 24-23 gradi sul centro sud Localmente invece su Puglia ecco sull'estremo sud dell'adriatico qua i valori potrebbero essere ancora abbastanza alti Con valori di circa 25 gradi Come possiamo vedere però l'afflusso di aria più fresca e umida alle porte dei Balcani porterà ad isolare queste regioni centrosettentrionali Quindi parte di Mila Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli e Veneto Con valori che risulteranno essere sopra media stagionale ma nettamente più basse rispetto al resto d'Italia E tra poco lo vedremo Poi a partire dalla giornata tra il 16 e il 17 prima infiltrazione di aria più fresca sul nord-ovest E nella giornata tra il 18 e il 19 ecco questa andata d'aria fresca porterà un grande crollo delle temperature su tutta l'Italia Ma soprattutto sul centro sud visto il grande aumento avuto poco prima Temperature invece molto calde si andranno a spostare su parte di Scandinavia e est Europa come possiamo vedere Mentre invece aria molto molto fresca circolerà sul centro sud Europa Infatti aria molto fresca e instabile si sentirà su parte del bacino della Turchia Comunque sul centro sud-est quindi stiamo parlando di Turchia, Balcani e poi anche sulla nostra penisola Con valori massimi di circa 18-20 gradi su tutto il centro sud e di 20-22 gradi sul centro sud 20-22 scusate Sul centro nord 18-21 Mi sono sbagliato Andiamo a vedere proprio le anomalie che vi stavo dicendo Quelle che fanno più impressione perché In questo momento come possiamo notare l'aria è molto molto fresca E le circolazioni d'aria più instabile e fredda sono soprattutto sul centro e nord Europa Infatti tra parti di Scandinavia, soprattutto Inghilterra e Germania Insieme anche a Olanda e Belgio Qua le temperature sono notevolmente sotto la media stagionale Ma a partire dalla giornata di domani come detto Questa bolla d'aria calda si inizierà a spingere verso nord Portando temperature notevolmente sopra la media Con picchi fino anche a 6 gradi su tutte le regioni centro-meridionali E soprattutto quelle del lato tirrenico Mentre invece come possiamo vedere sull'estremo nord E alcune regioni parti di Liguria, Toscana e di Mila e Romagna Qua avremo temperature leggermente sopra la media stagionale Con anomalie comprese tra i 2 e i 3 gradi Come abbiamo già anticipato però anomalia veramente molto significativa Su parte del centro e nord Europa Infatti temperature che risulteranno essere sopra la media stagionale Fino anche a 16 gradi, pensate un po' Su parte della Scandinavia Soprattutto sulle aree della Lapponia Quali temperature saranno sopra la media fino a picchi anche di 16-17 gradi Mentre invece il freddo si inizierà a spostare verso il centro-sud Portando aria molto fresca e instabile L'evoluzione poi come possiamo vedere Porta con grande instabilità nella giornata tra il 17 e il 21 Dove la pioggia inizierà a arrivare sul nostro paese E andiamo a vedere la pioggia Eccola qua la pioggia scusate Come possiamo vedere ecco l'instabilità inizierà a colpire il nostro paese A partire dal giorno circa 17 Come possiamo andare a vedere anche da questo modello L'instabilità inizierà ad essere molto molto forte Già a partire però anche dal 16 Più o meno la data precisa bisognerà ancora aspettare per saperla Perché c'è molta confusione tra il 16 e il 17 Quello che è certo che colpirà prima le regioni centro-settentrionali Da nord-ovest verso nord-est E poi a macchia di leopardo si inizierà a spostare verso il centro-sud Nella giornata tra il 17 e il 18 Proprio nella giornata del 18 poi il maltempo inizierà a farsi sempre più intenso Sulle regioni centro-settentrionali Ma finalmente grande pioggia e aria fresca anche sul centro-sud Dopo tanto tempo di assenza e di precipitazione Anche le regioni centro-meridionali inizieranno a beneficiare di questa ondata di maltempo Con accumuliche attenzioni su parte di Sicilia e lato adriatico potrebbero risultare molto molto intense Nuovamente attenzione perché l'evoluzione potrebbe essere pericolosa ancora una volta Per parte di Emilia Romagna e lato adriatico Perché potrebbe crearsi un vortice molto simile a quello di qualche settimana fa Di un mesetto fa che ha colpito quest'ultima regione Non facciamo allarmisi ma sicuramente ci potrebbe essere un pericolo Di una nuova fase di maltempo molto molto intensa Soprattutto sul nord-est e regioni centro-meridionali come possiamo vedere Infatti se andiamo poi ad assommare tutte le precipitazioni accumulate Con l'arrivo di questa perturbazione al termine di queste 192 ore Come possiamo vedere nuovamente l'aria con più precipitazioni Purtroppo sarebbe ancora Emilia Romagna Parte di Veneto, Friuli e lato adriatico Precipitazioni molto abbondanti anche lungo il centro-sud Lato tirrenico e precipitazioni localmente anche rilevanti Su parte di Liguria sia di Levante che di Ponente e parte anche di Toscana del nord Accumuli che come detto però su parte della Emilia Romagna preoccupano Perché siamo di nuovo oltre 100-150 mm e quindi bisognerà fare molta molta attenzione Infatti questo bisognerà andarlo ad analizzare con molti dettagli Per quanto riguarda neve, neve che si aggirerà intorno ai 2000 metri E non c'è nessuna grandissima informazione da darvi stando a questi modelli Penso di avervi detto tutto L'unica cosa da dire, penso che possiamo dare per certo che con l'arrivo di questo vortice I venti saranno abbastanza sostenuti Sostenuti da prima da nord verso sud sul lato tirrenico Scusate, soprattutto sulla Sardegna Da sud verso nord come possiamo vedere Soprattutto sul lato adriatico con raffiche Che localmente potrebbero raggiungere anche gli 80 km orari Non c'è più niente da aggiungere Tutte le informazioni più importanti ve le ho dette Come sempre se non l'hai ancora fatto Ti invito ad iscriverti al canale Lascerò mi piace e attivare la campanella Per ricevere sempre notifiche in tempo reale Non c'è nessuna altra informazione Quindi io vi auguro buon proseguimento E ci troviamo con un unissimo aggiornamento meteo Nel Mato Italia è tutto Buon proseguimento